ciao a tutti e bentornati sul canale per continuare con la nostra playlist dedicata alle bue e l'altraliccio ai motori xl12 quindi della serie sports revolution fino al 2003 oggi andiamo a fare un po di teoria anzi un po di diagnostica per riuscire a risalire alla causa di un problema di perdita di olio di questo motore sulle bue a traliccio già dai primi anni si riscontrava questa precoce usura questo problema perché comunque facendo più chilometri avendo un motore più pompato rispetto a un classico base 1200 sports e tutti quante le problematiche del motore sports revolution saltavano subito all'occhio con gli sports ci sono dovuti sono dovuti passare delle decine di anni per poter poi riscontrare questi problemi e invece sulle buele c'era già l'abbiamo già riscontrati molti anni prima il problema è della perdita olio ora vi faccio vedere qui davanti abbiamo il carter della primaria dove gira sia il pacco frizione sia la cadena primaria sia il pignone con il rotore e dietro lo statore la perdita di olio che di cui vado a parlarvi oggi è quella dello sfiato dei vapori dell'olio della primaria tiriamo via il carter che avevo appoggiato su qui abbiamo il motorino d'avviamento e qui dietro c'è un forellino questo forellino è lo sfiato dei vapori della primaria quindi qui gira l'olio della primaria viene buttato su lubrifica tutti quanti ingranaggi compreso quelli del cambio e poi i vapori che si condensano in questa zona vengono spinti attraverso il foro di uscita e portati su questo lato originariamente lo sfiato della primaria è questo tubo qui vedete questo superiore corre a fianco al motorino d'avviamento speriamo che eccolo lì va a fianco al motorino d'avviamento eccolo lì eccolo corre lungo il telaietto originale e arriva a questa altezza non ha filtri non ha contenitori non ha nulla quindi se per caso se malauguratamente la pressione all'interno della primaria aumenta oltre ai vapori viene sull'olio ed esce l'olio da questo sfiato per accorgervi è semplicissimo vi trovate tutto quanto il posteriore della moto imbrattato l'olio non può non può scappare non sentirete rumori non sentirete variazioni di perdita di potenza rumori in istrani non sentirete nulla semplicemente in questa zona vi si riempirà la moto tutta quanta d'olio il fattore che va a variare la pressione all'interno del carter della primaria è uno e uno soltanto non è la frizione che pattina quindi la primaria gira al massimo della sua velocità e quindi chi va a schizzare l'olio dappertutto e cambia la pressione all'interno del carter che spinge fuori l'olio non è lo statore che si scalda e si gonfia cioè ragazzi negli anni me li hanno dette di tutti i colori ma quando vedete uscire l'olio dal tubo dello sfiato della primaria è questo paraolio qui dietro al rotore quindi tirate giù il rotore troverete lo statore anche senza tirare giù lo statore già a vista troverete questo appena tirerò fuori l'anello d'acciaio comincerà a uscire dell'olio ora ve lo faccio vedere da vicino vedete questo qui è olio motore quindi cosa succede che il paraolio che c'è qui su non fa più tenuta non regge la pressione all'interno del carter della primaria e vi sputa fuori l'olio sputando fuori l'olio vado a aumentare il volume d'olio che è all'interno della primaria che colma il carter e comincia a sputarlo per a causa della pressione all'interno del tubo fino a uscire fuori e quindi sporcarvi tutto il retro della moto oltre a creare problemi al motore perché ovviamente se perdete troppo olio motore alla fine vi finisce l'olio all'interno del serbatoio e quindi restate con la primaria piena d'olio ma con i carter motori l'albero motore completamente asciutto mi raccomando fate molta attenzione perché nel mettere il paraolio oltre ad avere sempre le solite accortezze cioè non rovinare il labbro non rompere la molla di tenuta non rompere la gomma e tutto quanto infatti l'arley fornisce uno strumento apposito per poterlo montare in sicurezza c'è qualche genio di meccanico che lo mette al contrario a me è successo anche quello un meccanico ha messo il paraolio al contrario quindi già dai primi giri cosa mi succedeva che partivo e mi sputava fuori olio mettendo il paraolio al contrario ovviamente l'olio dal motore alla primaria passa senza problemi dalla primaria al motore non passa perché deve essere messo con la molla all'interno voi vedrete quando prendete il campione del paraolio nuovo avete una molla attorno al labbro di gomma che va messa all'interno perché la pressione maggiore è nel motore quindi cosa succede che il motore da pressione all'olio l'olio spinge sui labbri del paraolio che tengono su questo anello d'acciaio e fanno tenuta tutto questo è un equilibrio molto labile che purtroppo o per gli anni o per l'usura del paraolio quando lo andate a montare o semplicemente perché è arrivata la sua ora vi porta questo problema se siete fortunati vi potete accorgere dell'olio nero all'interno della primaria ancor prima che vi si riempia la primaria d'olio motore e vi sputi fuori tutto quindi io consiglio sempre di usare un olio per la primaria molto chiaro infatti basta semplicemente aprire questo carterino prendere una sondina una siringa un pennello qualsiasi cosa prendere un campioncino d'olio confrontarlo e vedere se è chiaro quindi è solo olio cambio oppure se è più scuro ed è mischiato con l'olio motore come vi dicevo prima il tubo di sfiato corre lungo il fianco del codino e arriva qui e come vedete non c'è nessun tappino nessun filtrino nessun contenitore del recupero dei vapori i vapori sono talmente pochi che non ha bisogno di nessun contenitore questo fatto dalla casa madre quindi da mamma buel mettere un filtrino un serbatoio o comunque ostruire questo tubo o rallentare la fuoriuscita dei vapori può essere controproducente perché come vi dicevo qui c'è un equilibrio delle due pressioni tra la pressione dell'olio che è generata dalla primaria del carter della primaria e i movimenti dell'albero motore che è importante dall'altra parte che genera un'altra pressione contrapposta a questa andare a modificare e tappare questo tubo potrebbe darvi un altro problema cosa succede mettete un filtrino il filtrino col tempo con la polvere più che altro non con l'olio ma con la polvere si ostruisce quindi va a tappare e non facilita l'uscita dei gas dei vapori da questo tubo e la classica problematica che potete avere è quella dell'olio che vi trasuda dal fondo del cavo della 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 frizione questo è il cavo della frizione che arriva su dalla leva e qui ha il suo fissaggio con uno ring vi dico che lo ring che c'è quando andate a montare questo cavo e non ha una battuta non ha un colletto d'alluminio dove vada alloggiarsi a a semplicemente di fu una funzione di guarnizioncina che quando poi andate a stringere il il raccordo filettato all'interno del carter questo ring viene schiacciato si deforma e quindi poi prende una sua forma particolare che va a farvi tenuta il cavo questo qui all'interno nella parte iniziale ha già dell'olio perché come potete vedere stanno in questa posizione qui il cavo nella parte bassa si riempie di olio e tiene lubrificato ovviamente lo scorrimento del cavo al suo interno però non riesce ad arrivare qui sopra quando vedete olio o vapori dell'olio che escono da questa parte cioè dove c'è la filettatura qui non ha tenuta stagna quindi se vedete dell'olio uscire da questo raccordino filettato che sarebbe il registro del cavo della frizione oppure se lo vedete uscire qui a fianco perché si è rovinata la crimpatura del del connettore filettato vuol dire che c'è un altro problema di sovrappressione dell'olio all'interno del cartello della primaria quindi se lo sfiato qui è tappato o è strozzato perché magari ci avete appoggiato sopra la batteria o magari si è strozzato sotto la sella oppure davanti c'è una qualsiasi altra istruzione che avete messo voi volontariamente e involontariamente i vapori e la pressione all'interno del cartello della primaria deve trovare una via d'uscita non ha quella lì del motore perché all'interno del motore c'è più pressione e quindi deve uscire da un'altra parte ed uscirà dal cavo della frizione mi è successo anche questo una problematica simile a questo sia la fuoriuscita dell'olio dal cavo frizione mi è già successa sull'iron sullo sportster di mio fratello del 2003 quindi non è questo motore ma è la versione successiva ma abbiamo avuto questo problema se perde olio qui vuol dire che c'è un problema di tenuta o di sovrappressione nel cartello della primaria la sovrappressione come vi dicevo prima se l'olio non esce dallo sfiato deve uscire da qualche altra parte quindi sceglie la strada del cavo della frizione cosa avevano fatto sulla moto di mio fratello ovviamente non è una buola è uno sportster iron però i vapori lo sfiato dei vapori della benzina nel serbatoio che corre lungo il telaio e scende verso le pedane va arriva a questa altezza e il tubo di sfiato dei vapori della primaria che nel 2003 in questa zona corre dietro al modrino d'avviamento e arriva in quest'altra zona sempre la zona dell'incrocio dei tubi del telaio dell'iron cosa hanno fatto qualche genio ha infilato il tubo dei sfiati dei vapori della benzina all'interno del tubo dei sfiato dei vapori della primaria forse pensava che facendo così i vapori della benzina si condensassero e andassero a finire dentro il carter della primaria però cosa succedeva che il cartella primaria andava in pressione quindi l'olio andando in pressione doveva uscire dallo sfiato del carter non riusciva a uscire dallo sfiato del carter perché era tappato dallo sfiato dei vapori della benzina che hanno una valvola di non ritorno quindi non riusciva ad andare su e quindi usciva dal cavo della frizione bene amici queste piccole perle di meccaniche che riguardano questo motore xl12 per oggi terminano qui spero che non vi servano mai ma all'occorrenza sapete già quale possono essere le varianti e le problematiche vi dico subito che cambiare il paraolio dietro il dietro l'ossatore dell'xl12 e della buola traliccio non è difficilissimo basta tirare giù la primaria sul mio canale ci sono già diversi tutorial e video esplicativi dove vi faccio vedere come tirare giù la primaria non servono e io uso la pistola pneumatica ma non ce n'è assolutamente necessità perché ci sono un paio di trucchi nei miei video per poter smontare la primaria semplicemente con una leva una chiave una barra di ferro e quindi potete tirarlo giù anche senza pistole pneumatici o estrattori quindi tutto molto semplice mi auguro di no ma se dovesse avere questo problema contattatevi comunque sul sul canale tramite i commenti che vi darò una mano io bene vi saluto e alla prossima